Ciao a tutti da Brasile, oggi vi voglio illustrare un piatto non brasiliano, ma una bevanda brasiliana, una bevanda introvabile in Italia, una bevanda molto conosciuta qui in Brasile, ma introvabile in Italia, difficile da fare, come questa bevanda, adesso ve la faccio vedere e dopo vi spiegherò come prepararla, la bevanda è questa qua, si vede? Va che aroma, colore un po' schifoso, un po' sombrio, oserei dire un colore dantesco e la bevanda si chiama caffè, ricordatevi a casa, caffè, come fate a fare il caffè? Non si può fare perché bisogna andarla a comprare, sicuramente in Italia non c'è, ma sicuramente ci saranno quei negozi, tipo siamo abitati a Milano, ci sono quartiere cinese, quelle robe lì insomma, cosa fate? Andate nel negozio e comprate il caffè, se lo trovate perché sarà dura, e dopo lo dovete fare con la moca, come fate a fare la moca? Andate da un fabbolo e fate fare la moca, una volta fatta la moca, prendete il caffè, lo mettete dentro la moca, fate bollire l'acqua, una volta che l'acqua è messa in ebollizione, infatti si dice fate bollire l'acqua, lo buttate dentro il caffè e uscirà questa miscela aromatizzata, impressionante e molto salutare, molto buono, bevetelo la mattina come colazione, lo potete bere dopo i pasti, alla sera insomma bevetelo quanto cazzo volete, ciao a tutti!